Si chiude il secondo blocco di dieci salti con il campione in carica, con il detentore della sfera di cristallo, Holvoregner Gronerud. Quarto in classifica generale, ottimo il salto di Gronerud. 136 metri e mezzo, questo è un salto che vale la prima posizione, allora tra poco lo rivedremo. Punti di Gronerud, undicesimo al termine della prima manche, il norvegese che ha riportato la sfera di cristallo in Norvegia. Nove anni dopo Anders Bordal. 266 metri e mezzo.